Coach, finisce con un'espulsione, con un po' di amaro, di proteste, di polemiche questa partita. Merito delle avversarie, va riconosciuto. Peccato però. Sì, è un peccato aver finito male e ancora peggio aver finito con un rosso, con un comportamento irriguardoso, perché alla fine non è certo il discorso dell'arbitro che ci ha penalizzato o ci ha fatto perdere o non ci ha fatto passare il turno. Noi non passiamo il turno perché l'acqua chiara è stata più forte di noi, è stata più brava Scampia, è stata più brava qua più o meno. Le partite hanno seguito la stessa falsa riga, a Scampia siamo arrivati più vicino, nel recupero qua meno. Poi ci stava che alla fine si provassero tutto per tutto, è andato male. Però ripeto, la Comunotto non va alla finale perché l'acqua chiara è stata più brava. Quindi su quello si può parlare di come potevamo gestire meglio gli uomini in più, le azioni calde nel recupero o scendere sotto di tre ogni volta. Ma anche quella cosa lì è una cosa che riguarda me, lo analizzerò, cercherò di capire cosa non è andata. Abbiamo fatto due partite con la testa troppo carica e forse non le ho aiutate. Si tratta veramente di capire perché noi soprattutto in casa giochiamo sempre in un modo un pochino più semplice, più lineare. Ripeto, bisogna dar merito a loro che non ce l'hanno fatto fare. Sembravano sempre pronte sui nostri schemi, ci hanno sempre chiuso bene, alla fine ci hanno fatto giocare malissimo. Quindi quando le cose vanno così, onestamente io preferisco inchinarmi all'avversario e fare i complimenti all'acqua chiara. Bravo coach. Non mi caduto, però. Vabbè, 4 playoff. Sì, l'abbiamo detto ieri, noi ci stiamo provando, noi facciamo quello che possiamo. Oggi, quest'anno, l'annata ci ha portato qui, che è stata una buona cosa. La sensazione era più di poter far meglio, però la realtà poi va oltre la sensazione, la realtà è che loro hanno meritato. Grazie coach, a presto. Grazie a voi come sempre. Grazie, grazie coach.